Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, cercherò di essere breve, coinciso, di farmi capire, di parlare in maniera calma, ma soprattutto seria, perché non ho voglia di scherzare oggi per quello che è successo ieri, per l'ennesimo scempio che è andato in onda. Devo dirvi un po' di cose, mi sono preso qualche appunto e riferito alla sua conferenza stampa, parlo di pasta e fasù, mister pioli, perché era doveroso farlo, altrimenti mi perdevo dei pezzi importanti. La copertina è esonerato, esonerato non è un clickbait, esonerato è il desiderio, l'urlo, la necessità di noi veri tifosi, non la curva a sud, di noi veri tifosi, di non avere più alla guida del nostro Milan un allenatore di questo calibro, di questa portata, un allenatore non all'altezza. La curva a sud ieri a fine partita ha accolto sotto proprio la curva quattro dei giocatori del Milan, tra cui c'era il capitano Calabria, gli altri sono telati nello spogliatoio insieme a pasta e fasù senza bols che se ne è scappato e dalla curva a sud è arrivata la voce. No, mi raccomando, non fischiatevi loro, perché sono gli unici quattro venuti, ma non applauditeli neanche. Perché siamo alle solite, la curva a sud non prende decisioni, non prende posizioni, rimane nel limbo. Questa frase mi è girata nel cervello perché è esattamente quello che sono, rispecchia la non posizione di una curva che continua a cantare, continua a sostenere e non espone mai un struscione di protesta. Noi siamo i tifosi da casa, non siamo lì allo stadio, anche perché io non me lo posso permettere un biglietto dallo stadio per adesso. Voi che siete lì, siete la nostra voce, ma in realtà a me non mi rappresentano, non so voi, ma a me non mi rappresentano, perché non c'è mai uno striscione, mai una protesta, mai uno striscione, Pioli basta con Krunic, metti dentro lì perché è giusto così, uno striscione adesso basta, un fischio, i fischi sono alla fine, sono arrivati, sono alla fine, cantato, tamburillato per 90 minuti, non mi rappresentate, per me non siete la tifoseria che mi rappresenta, io tifo da solo, come penso la maggior parte dei miei follower sul canale, Pioli non sa nemmeno come ha vinto lo scudetto, in realtà è questa, non sa nemmeno come ha vinto lo scudetto, per Pioli è stato esattamente come aver avuto tra le mani un grattevinci di un giocatore che non ha mai giocato al grattevinci, che gli hanno spiegato come grattare e ha vinto 4 milioni di euro, esattamente funziona così, hai vinto uno scudetto e 4 milioni di euro, questa è stata la soluzione, questo è stato il discorso in breve, in sintesi della carriera al Milan di Pioli, questo è successo e parla spesso di mancanza di qualità, nelle sue interviste post partita parla di mancanza, è mancata la qualità, è mancata la qualità, ma siamo sicuri che il gruppo è coeso e che manca esattamente la qualità, un gruppo lento, una squadra lenta in campo, macchinosa, che sembra quasi a tratti non aver voglia e di non aspettare il momento di arrivare a casa e mettersi le ciabatte o andare in pizzeria, sbattersi nelle palle di quello che è successo, mangiarsi la pizza, bersi magari una bottiglia di champagne insieme agli altri amici e poi tirar fuori il portafoglio pieno di soldi, siamo sicuri che non è una questione di gruppo e non di qualità, ma te ne sei fatti due ragionamenti Pioli, no, poi ci viene a far vedere che Calabria organizza la pizzata, ci fai capire in conferenza stampa che non hai mai avuto un gruppo così coeso, ma chi le vuoi raccontare queste barzellette Pioli, ma chi le vuoi raccontare, vai a raccontare la curva a sud, noi l'anello al naso non ce l'abbiamo caro Pioli, parla, e poi voglio parlare io invece un attimo una parentesi dei nostri giocatori che tutti state taggiando come bidoni, allora quello che io ho visto nelle prime 3-4 giornate di campionato non erano bidoni, non erano bidoni, erano giocatori bravi, giocatori diversi, qualcosa in più dell'anno scorso, giocatori forti che attaccavano a profondità velocità inesauribili, ok? Cos'è successo? Non sono bidoni, sono giocatori a 20 milioni di euro, io a più riprese ho sostenuto che un giocatore di 20 milioni di euro vale spesso 20 milioni di euro, a volte diventa anche un crack, però è questo, io ho sempre detto che nel contesto italiano secondo me siamo molto forti e competitivi, nel contesto europeo dobbiamo ancora mangiare di pappa perché con giocatori di 20 milioni di euro non ti vai a competere, non vai a contenderti una Champions League, certo l'anno scorso siamo arrivati in semifinale di Champions League, ma direi che il Milan ha avuto tanta fortuna, come l'ha avuto anche nell'anno lo scudetto, sembra quasi che questa fortuna purtroppo adesso siano finiti, il problema è che adesso questi non sono bidoni, questi sono caduti nel vortice dei schemi lenti, ridicoli e macchinosi di un allenatore incapace, sono diventati come anziani con l'Alzheimer, non hanno più la forza, la capacità di comprendere, quando un Giroudi viene a raccontare davanti alla telecamera e dopo il gol del Napoli non sapevamo se difendere o attaccare e questo mi ha fatto venire i peli alti così ragazzi, non sapevamo se difendere o se attaccare, questo è sintomatico, queste parole sono la verità come di un bambino che ti racconta quanto una squadra sia allo sbando, quanto una squadra sia senza controllo, senza tatticismi e questo il vero problema, il vero problema è che il Milan non c'è più, questo è un Milan al limite del soporifero, condito poi anche da un allenatore che ci mette molto del suo, anzi ci mette il 90% del suo, inserisce in una partita così complicata un giocatore come Jovic che è imbarazzante per quanto sia la sua preparazione fisica e infatti non ha reso praticamente nulla, inserisce poi, continua a inserire il suo pupillo Krunic che è stato doppiamente imbarazzante rapportato alla preparazione rispetto anche a uno Jovic, è stato doppiamente imbarazzante, imbarazzante è sostituito poi perché doveva coccolarselo ma adesso ne parliamo di quello che è successo anche per la sostituzione e poi anche il Musa non ha convinto, è sostituito anche da Romero che non era quello da mettere gli ultimi dieci minuti alla fine, abbiamo un Leao che con i suoi ghirigori ha rotto veramente le palle, non funzionano più Leao, i tuoi ghirigori non funzionano più, mettitelo in testa, devi cambiare modo di giocare, modo di pensiero, devi cambiare velocità e devi lavorare con la squadra, testa bassa e ghirigori non funzionano più, ti hanno capito ormai, ti hanno capito, ti raddoppiano e tu vai sempre col culo per terra e poi alzi le braccia e sbuffi, non funziona più solo Giroud avanti, va bene una doppietta con Napoli ma io che non ho la palla di vetro del cristallo, vi avevo raccontato che Giroud con la Cludinese avrebbe avuto comunque vita complicata, vita difficile e così è stato, ma non perché io abbia la palla di vetro, non perché sia un veggente, perché è quello che sono questi giocatori, sono quelli che hanno, si conoscono le caratteristiche tecniche, Giroud di fronte a una difesa arcigna chiusa col pullman, è chiaro che tu non fai niente, non puoi fare niente perché Giroud non attacca la profondità, Giroud non va a prendersi il pallone, Giroud è lì che aspetta, aspetta e quando gli arriva bene spizza il colpo di testa come nel finale con l'Udinese che purtroppo ha trovato di fronte un portiere, un portiere comunque bravissimo ieri sera, bisogna fargli complimenti e non attacchiamoci nemmeno al rigore che non c'era perché non me ne fotte proprio del rigore che non c'era, non mi interessa perché dobbiamo piantare e attaccarci anche a queste cose, se il Milan avesse fatto il Milan con i primi giorni, se avesse giocato al pieno di sua capacità, ragazzi l'Udinese la spaccavi 3-4-0, invece no, abbiamo perso per un rigore magari anche quasi inesistente, ma intanto hai perso e ce la portiamo a casa zitti e muti e torniamo un attimo a quello che è il discorso della conferenza stampa perché mi ero preso proprio appunti e volevo parlarvi, scusate vado veloce perché sennò non basterebbero 20 minuti in sto video, forse 25, allora lui in conferenza stampa ci viene a raccontare che il Milan non è aggressivo, non attacca la profondità e che è la prestazione peggiore di quest'anno, di sempre, di sempre, di sempre, il Milan non è aggressivo ma attacca la profondità, e di chi è la colpa mia? E voi? Noi milanisti? No, è sempre tua. Prestazione peggiore? Di prestazione peggiore ne hai collezionate Pioli, ma da tante, tu sei l'uomo dei record, sei l'uomo dei record negativi, ci hai fatto collezionare figure di merda su figure di merda, in maniera costante e continua, ok? Costante e continua, noi abbiamo le scatole piene, e sono molto educato oggi dicendo così, abbiamo le scatole piene del tuo operato, di come ti comporti, della tua presunzione, della tua ragazza, non ti tolleriamo più, e questo è un problema, quando ci viene a dire poi queste cose, ma non ho finito, adesso arrivano le belle ragazzi. ragazzi, siamo stati... ah, fanno fatica i ragazzi a capire quando affondare e quando aspettare e quando passare, i ragazzi fanno fatica, ma se i ragazzi fanno fatica, ma la colpa di chi è? Mia! Dei miei amici, dei miei follower, o è tua la colpa se i ragazzi fanno fatica a capire quando affondare e quando aspettare, ok? Se io a mio figlio non gli insegno a tenere il cucchiaio in mano o la forchetta, se non gli insegno a rotolare gli spaghetti, poi non posso dire, ma fa fatica a capire come si arrotolano, ma fai fatica a capire come si tiene il cucchiaio in mano, è ovvio che la responsabilità è mia, quindi prendi la tua responsabilità, sei tu, dalle parole che dici dove si prende la tua valigetta, la tua boccia pelata e andartene via domani mattina, ma anzi no, stamattina, scusa, non domani mattina. a livello tecnico e tattico abbiamo fatto una cattiva prestazione, vi giuro sono le sue affermazioni, andate a vedervele, a livello tecnico e tattico abbiamo fatto una cattiva prestazione, ma se a livello, lasciamo stare il tecnico, che quello dipende anche magari dal singolo o anche no, ma il tattico, il tattico se fai una cattiva prestazione, caro pasto e fagiolini con le cotiche, sei tu la colpa, ma lo vuoi capire o no? Se a livello tattico fai una cattiva prestazione, sei tu, ti stai dicendo che sei stato un fesso, che hai fatto schifo, per l'ennesima volta, non per una volta. E poi parla degli infortuni, e qua mi sono fatto una grossa risata, Pulis, Giucuezze, Teo, Kier, e poi anche Krunic, perché hai tolto Krunic? Perché è stato ammonito e poi aveva un fastidietto, un fastidietto e l'ammunizione, quindi ho preferito non rischiarlo, aveva il fastidietto, aveva il fastidietto, sembra che stai parlando del tuo figliolo, aveva il fastidietto, poverino aveva il fastidietto, Rade c'è il fastidietto, ti tiro fuori, ma meno male, ma meno male dico io, perché poi è entrato Adli e in tre azioni ha fatto vedere quello che Rade Krunic non farà vedere in una sua vita calcistica, e piantatela di difenderlo, perché Rade Krunic, ce lo dico liberamente, fa cagare, ok? Lo voglio dire, lo posso dire? Lo dico. Adli, due, due passaggi, dico io, una pennellata sul piede di Ghirigori Man, Leao, una pennellata di 40 metri sul piede, e Krunic quando le fa queste cose, scusate, una pennellata sul piede, è stato allucinante questo, e poi dice che tutte le squadre fanno fatica a scardinare le difese così solide, tutte le squadre, sì ma la maggior parte delle volte è la tua, ok? Tutte le squadre, no, no, le altre squadre trovano la soluzione per scardinare le difese solide, e adesso ve lo vado a raccontare in conclusione di questo video, ok? Perché non era così complicato, eh? Perché a un certo punto, anche, ci mette anche nel suo un giornalista, che fa una domanda scomodissima, ma una domanda tecnica ben precisa, ben precisa, ok? Che poi me la sono rielaborata e l'ho rivista a mio modo, ok? Praticamente, ma alzando tutti e quattro gli attaccanti, ok? Con gli esterni, ha facilitato praticamente il lavoro di Cioffi, questo gli stava dicendo il giornalista, eh? Cioffi è l'allenatore dell'Udinese, perché i nostri centrocampisti non avevano spazio e quindi l'Udinese rimaneva schiacciata. In parole povere, cosa sta dicendo? Che ha alzato i due attaccanti centrali, ha fatto alzare Leao e l'attaccante di destra tutti e quattro su, ok? La difesa, ovviamente, per sopperire a questo alzamento dei quattro attaccanti è rimasta molto più indietro di quello che magari poteva fare. Quindi i centrocampisti nostri, con la difesa schiacciata, non avevano lo spazio, tecnicamente, per poter servire o lanciare gli attaccanti. E questa è la cosa più corretta del mondo, è giusto, è per quello che anche tatticamente è stata impostata malissimo questa partita, ok? E lui risponde, risponde, perché poi questa risposta va detta, attenzione, la risposta di Pioli, ma ve la dico perché me la sono trascritta, me la sono trascritta. Io credo, rispondendo a questa domanda appunto che abbiamo facilitato il lavoro raccioffi facendo salire i quattro attaccanti, io credo che dovevamo aprire di più il gioco, inizialmente, poi tornare dentro per giocare sulle due punte e trovare qualche combinazione che in effetti non siamo riusciti a fare. Questa è una supercazzola, amici miei, questa è una supercazzola, ma che risposta è? Che risposta è questa? Che risposta è? Che risposta è? Che risposta è? Io credo che dovevamo aprire di più il gioco inizialmente, poi tornare dentro, poi tornare dentro per giocare sulle due punte e trovare qualche combinazione che in effetti non siamo riusciti. In effetti non l'hai trovata, perché te l'ha spiegata il giornalista che lui fa il giornalista e non fa l'allenatore come te, e ti ha detto che tu ti sei suicidato alzando le quattro punte e non lasciando spazio né ai mediani né ai terzini per poter fare gli inserimenti, perché hai fatto in modo che Cioffi, oltre ad avere il pullman, avesse alzato anche una barricata di cemento armato e quindi tu non entravi più. Questo ti ha spiegato il giornalista ed è questo, in conclusione amici miei, poi vi lascio, che ci fa capire il livello di questo allenatore. Questo ce lo fa capire. Un allenatore che non sa leggere le partite, che non sa impostarle tatticamente e che non ha più in mano la situazione, forse non l'ha mai avuta in mano. Io continuo a pensare che l'anno dello Scudetto ha fatto tutta la squadra e con gran partecipazione dell'Inter che l'ha perso da solo. Però credo che a questo punto la società debba intervenire per amore e per rispetto di questi colori, perché così non si può più andare avanti. Io vi auguro buona giornata, come sempre ci sentiamo più tardi, sempre Forza Milan!